Grazie a tutti Iannacone Massimo all'aria peso Iannacone Massimo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ultima chiamata. Salis Fabrizio, Meliota Vito, Esposito Aldo, cintura gialla, arancione, sono pregati di ragazzi al podio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arrizala Valencia Raffaele squalificato. Esposito Aldo, Meliota Vito, Salis Fabrizio, sono pregati di avvicinarsi al podio. Categoria maschio, viola, master, 82-3. Dibuzianico, Davide, Moraci, Alfredo. Pellegrini, Fabio, Castellani, Nicolò, rincoordinator 5. Contani, Elisa e Meliota Laura, sono chiamata al podio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Maschio, viola, master, 64-64. Da Silva, Arnaldo Roberto, Panarella, Fulvio. L'incoordinator numero 3. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.